È un peccato mortale uscire da questa gara con un punto solo perché è una partita stradominata. Nel primo tempo abbiamo trovato i ritmi, siamo andati al ritmo loro e noi al ritmo loro non siamo bravi. Nonostante questo però abbiamo subito mezza occasione, abbiamo preso il rigore, abbiamo preso il gol. Abbiamo creato delle occasioni nonostante non è stata la nostra migliore gara nella prima frazione. E poi penso che nella seconda abbiamo stradominato la gara, abbiamo creato tantissime opportunità per vincere e non ci siamo riusciti e questa non è una cosa positiva oggi. Dobbiamo essere in grado di migliorarla perché secondo me in una partita come questa noi dobbiamo essere in grado di portare a casa la vittoria. Queste partite poi alla fine ti nascondono sempre il tranello, però penso che è una gara che non ho avuto storia. Non lo so, ancora non ho visto i dati, ma abbiamo sofferto su una mezza azione, abbiamo preso il rigore, abbiamo preso il gol. Poi non mi ricordo altre situazioni in cui abbiamo sofferto e penso che abbiamo creato tantissime, troppe situazioni da gol in cui avremmo dovuto e potuto fare meglio. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno che comunque continuiamo a creare e il bicchiere mezzo vuoto che dobbiamo riempirlo perché fino ad ora penso che abbiamo raccolto molto molto meno di quello che abbiamo meritato. Dobbiamo fare meglio perché quando crei penso quasi dieci occasioni da gol e ne subisci mezza sul calcio di rigore quando hai quasi tutta la squadra schierata, sicuramente devi fare meglio, dobbiamo alzare i ritmi, lo sappiamo e rimane oggi il grande rammarico e spero anche un pizzico di arrabbiatura che non siamo riusciti a portare a casa i tre punti perché oggi nel secondo tempo penso che abbiamo meritato tutti.